canova concerto del primo maggio ragazzi bentornati anche perché è bello trovarvi noi ci trovarci due di all music italia insieme a voi ma anche il concerto del primo maggio è sempre una bella occasione e ormai come dire siete quasi degli abituati guarda il nostro secondo primo maggio siamo stati qua anche l'anno scorso devo dire che il cast è sempre più attuale più bello suonare sotto un tema così importante una giornata così ancora più bello quindi noi siamo felicissimi di esserci prendendo in prestito il titolo del vostro ultimo lavoro vivi per sempre comunque credo che questo si possa trovare molto bene trovo ci sono molte affinità con quelli che sono i vari messaggi i vari step che questo concetto del primo maggio porta anche nei propri nei propri messaggi nei proprio come dire proprio claim infatti vivi per vivi per sempre anche agli ideali che ognuno ha sicuramente bisogna in un'epoca come questa combattere con le proprie esigenze i propri sogni noi l'abbiamo fatto quindi siamo la prova capito che credendoci e ce la si può fare bel messaggio e tra l'altro credendoci si può arrivare anche al primo posto in classifica tra i vini di più venduti in italia che ragazzi stiamo parlando comunque di un di una classifica fimi tra classifica ufficiale e tra l'altro di un supporto che fa molto vintage ma che viene talmente apprezzato dagli amanti della musica si è bellissimo perché appunto il vinile per noi è un oggetto pazzesco perché ascoltiamo a volte la musica in vinile devo dire ed è il modo migliore per ascoltare quindi il fatto che siamo arrivati appunto prima in classifica non ci può che dare felicità perché vuol dire che il disco è stato ascoltato ed è una cosa importante meglio un vinile di una playlist per questo disco sicuramente quindi siamo contenti di questa cosa sì in effetti ricordo che ne avevamo parlato anche alla presentazione del vostro disco di quanto importante è anche proprio la track list quindi tutto un certo tipo di lavoro che è stato creato quindi fa davvero piacere ragazzi per quanto riguarda diciamo questi giorni ieri è stata presentata anche la compilation Faber Nostrum voi avete partecipato e tra l'altro avete partecipato con una versione del suonatore Jones davvero particolare davvero molto personale ma che comunque non va ad intaccare quella che è la forza dell'originale come mai avete scelto quel pezzo? Che rapporto avete anche con Fabrizio? Guarda intanto grazie sicuramente approcciarsi per una band approcciarsi a De Andrè non è facilissimo perché come si sa i brani di De Andrè sono molto cantautorali noi all'inizio eravamo un po' titubanti perché ci sono certi artisti e certe canzoni che non hanno bisogno di cover però il suonatore Jones ci è venuto a chiamare lei nel senso che ci siamo confrontati è una canzone che abbiamo sempre amato tutti e quattro allo stesso modo fin da ragazzini e quindi ci siamo messi là, noi stiamo registrando il nostro disco in quel periodo abbiamo detto proviamoci quindi siamo contenti del risultato perché vediamo poi che è stato molto apprezzato più che altro anche l'idea di realizzare un disco del genere che sicuramente è stato coraggioso e ha portato anche ai più giovani dei temi e l'ascolto di De Andrè che sicuramente è una roba che va fatta e portata in eterno avanti Poi è stato, penso, possiamo dire anche un esperimento musicale molto interessante perché è una canzone che ha una struttura molto particolare secondo me è una vera canzone indie nel senso che non c'è proprio l'apertura classica del ritornello dove te l'aspetti è molto testo, noi siamo abituati a fare un altro tipo di canzone solitamente quindi per noi è stato molto bello e molto interessante, siamo felicissimi di quello che abbiamo fatto e stiamo raccogliendo consensi mano a mano quindi siamo contenti Ragazzi vi lascio il microfono solamente per salutare e per augurare buon primo maggio anche ai nostri lettori Grazie, buon primo maggio al Music Italia, grazie per il sostegno sempre, grandi, ciao Ciao